Dal santuario di Castelsecco, sulla collina di San Cornelio, provengono due mattonelle di pietra che recano incise in lettere capitali, l'una Tinslut e l'altra Flere. Con il primo termine va inteso area consacrata dedicata a Tina, la massima divinità del panteon etrusco, Zeus per i greci, o forse va piuttosto letto come un'unica parola composta, Tinslut, dal più generico significato di area sacra. Flere invece significa semplicemente Dio e indica una divinità non esplicitamente nominata, forse quella titolare del santuario. Si ritiene che queste mattonelle facessero parte di un'area delimitata con un rituale, liberata da spiriti non graditi e inaugurata, cioè uno spazio consacrato, templum interris in latino, all'interno dell'imponente santuario del III-II secolo a.C. Tale area è stata interpretata come un auguraculum, cioè un luogo sacro ed elevato da dove osservare i segni del cielo, come i fulmini, il volo degli uccelli, classificati metodicamente dalla disciplina etrusca. Le iscrizioni di queste mattonelle non avevano dunque una semplice funzione monumentale, ma esplicitavano attraverso la parola scritta la pertinenza sacra e le forme del culto del luogo nel quale erano state ritualmente poste.